Nella scorsa lezione abbiamo visto tutta la parte introduttiva alle equazioni che descrivono il modo di un fluido. Oggi inizieremo a ricavare proprio le equazioni che descrivono il modo di un fluido. Per poterlo fare però ricordiamo che considerando la generica grandezza estensiva G e quindi la grandezza specifica, utilizzando il teorema del trasporto di Reynolds abbiamo scritto che G su D è uguale all'italia di Vata rispetto al tempo dell'integrale di Foggi del V sul volume di controllo più l'integrale sulla superficie di controllo di Foggi Q vettore dove Q è il vettore di velocità, campo di velocità, scalarelline, india poi utilizzando il teorema di Gaussi. Tutto è stato scritto in questo modo. Ok, allora sostanzialmente questa relazione è una relazione che c'è molto utile nel ricavare le equazioni del modo di un fluido perché ovviamente passando da questa relazione a questo, utilizzando il teorema di Gauss, siamo in grado di riscrivere tutto anche in forma differenziale, no? Quando ci riferiamo a un volume in clitesimo e c'è molto utile perché le equazioni del modo di un fluido non sono altro che la scrittura per un elementino fluido delle leggi generali di conservazione della massa, della quantità di moto e dell'energia. Queste sono leggi generali che quindi valgono indipendentemente da una sostanza, dal mezzo che analizziamo e queste leggi generali vengono di volta in volta affiancate da leggi particolari che invece descrivono un particolare medico in esame. Ricorderete per esempio che quando abbiamo ricavato l'equazione generale della conduzione, la legge di conservazione dell'energia è una legge generale che abbiamo applicato a tutti i flussi entranti e uscenti dal volume elementare e poi abbiamo correttato i flussi al gradiente di temperatura utilizzando una legge particolare che è la legge di Fourier. Quindi questo è il senso di quello che faremo oggi. Allora queste leggi generali le applicheremo ad un elemento fluido. Questo elemento fluido sostanzialmente lo possiamo vedere come un cubetto di dimensioni delta x, delta z, delta y pulsion, e queste dimensioni sono tali da poter ritenere valida l'ipotesi del coltivo. È qualcosa che abbiamo detto la volta scorsa, abbiamo detto che ritenendo valida l'ipotesi del coltivo, quindi utilizzando un approccio macroscopico, noi trascuriamo la natura particellare del fluido. Per poter ritenere valida queste cose, la dimensione di questo cubetto elementare deve essere abbastanza grande da appunto poter ritenere trascurabile la natura particellare che significa più grande del cammino l'intero medio, ricordate? Quindi diciamo che dal punto di vista pratico, per il fluido di interesse pratico industriale, la dimensione di questo cubetto potrebbe essere qualcosa dell'ordine del micrometro, va bene, diciamo a meno 6 metri. Ora, questo cubetto deve essere contemporaneamente questo elemento fluido, quindi ora in poi lo chiameremo elemento fluido, questo elemento fluido deve essere contemporaneamente abbastanza piccolo, per poter esprimere le grandezze di interesse sulle diverse facce dell'elventino utilizzando un'espansione in serie di Taylor arrestata al primo ordine. Questa cosa qui ricordo di avervela accennata nella scorsa lezione, però ovviamente non l'abbiamo approfondita, l'abbiamo semplicemente detta e poi se ricordo bene vi ho detto che nella lezione successiva avremmo capito meglio che cosa intendevo. Ecco, ora cerchiamo di capire meglio che cosa intendevo nella scorsa lezione. Noi scriveremo queste leggi generali, ricorderete che possono essere formulate in maniera abbastanza semplice utilizzando un approccio lagrangiano, perché di fatto sono scritte per una massa assegnata. Ovviamente però servendoci di questi strumenti, come il problema del trasporto di Reynolds, riformuleremo queste leggi utilizzando di fatto un approccio aglioriano, quindi per un volume di controllo che è questo qui. Nel momento in cui utilizziamo un approccio aglioriano non stiamo più seguendo la massa di controllo, ma stiamo definendo delle grandezze di campo. Queste grandezze di campo, che possono essere pressione, densità, temperatura, velocità e derivate di queste grandezze come l'accelerazione con la derivata della velocità rispetto al tempo, sostanzialmente sono definite in funzione dello spazio e del tempo. Ok? Benissimo. A una volta che abbiamo definito l'elementino fluido, associamo la generica grandezza di campo al centro dell'elementino fluido, di coordinata x, y e z. E quindi quando andiamo a studiare il problema secondo un approccio aglioriano, quello che troveremo è una distribuzione per esempio di pressione, funzione dello spazio e del tempo, di densità, funzione dello spazio e del tempo, di velocità, che è una grandezza vettoriale, quindi ha tre componenti, funzione dello spazio e del tempo, e così via, per esempio la temperatura, funzione dello spazio e del tempo. Ora, e altre grandezze derivate, va bene? Ora, trattando questo elementino fluido, noi stiamo utilizzando l'ipotesi del continuo, ovvero un approccio macroscopico. Che cosa intendiamo? Intendiamo dire che il valore della grandezza di campo associato a questo punto, che è il centro dell'elemento fluido, è rappresentativo di tutto l'elemento fluido. Ricorderete che questo è l'approccio che abbiamo sempre utilizzato nella fisica tecnica, cioè quando avevamo un sistema, un certo sistema, fisica tecnica, dicevamo che questo sistema iscrivava una temperatura T, ovviamente non era la temperatura di uno specifico punto, in quel caso era un sistema di riso, ma era la temperatura dell'intero sistema, rappresentativa dell'intero sistema. Ecco, quindi noi in questo caso associamo ad ogni elementino fluido la grandezza di campo in questo punto e se questo elemento fluido è abbastanza piccolo, possiamo esprimere i valori delle grandezze di campo sulle sei facce dell'elementino fluido a partire dal valore che le stesse grandezze assumono al centro utilizzando un'espansione in serie di Taylor arrestata al primo ordine. Quindi, per esempio, su questa faccia qui il valore della pressione della pressione, sarà uguale a P che è funzione di x, y, z e t più dp su dx per delta x mezzi più dei termini che saranno di ordine superiore e che noi evidentemente trascuriamo. Capite? Questo è il termine. E questo approccio ovviamente è valido non solo per la pressione che qui abbiamo scritto solamente a titolo d'esempio, ma per tutte le grandezze di campo. Allora, premesso questo, premesso questo, iniziamo a ricavare le equazioni del moto di un fluido con le quali lavoreremo nelle prossime lezioni. Allora, iniziamo dall'equazione di conservazione della massa. Allora, in realtà, ricavare questa equazione è assolutamente immediato utilizzando il teorema del trasporto di Reynolds. Infatti, con riferimento all'elemento fluido, quindi con il volumen infinitesimo, il teorema del trasporto di Reynolds si scrive che g su dt è uguale a d rho g su dt più divergenza di rho u, dove u è il vettore velocità composto dalle componenti u, v e w nelle direzioni rispettivamente x, y e z in generale. Ora, questo è scritto, ripeto, per la generica grandezza estensiva g. Nel nostro caso, ovviamente, può essere riscritto in maniera immediata per la massa. Allora, per la massa, ovviamente, scriveremo che dm su dt uguale a 0, cioè la derivata sostanziale della massa rispetto al tempo deve essere uguale a 0, perché la massa è una grandezza assolutamente conservativa. Questo significa che questo secondo membro lo posso scrivere tenendo conto che g piccolo, che è g grande, il viso alla massa, chiaramente varia 1. In conseguenza, questa scrittura, che è, diciamo, data da un approccio lagrangiano, può essere riscritta utilizzando il teorema appunto del trasporto di Reynolds come per rho su dt più la divergenza di rho per u è uguale a 0. E questa, di fatto, è la legge di conservazione, l'equazione di conservazione della massa, scritta in forma vetroiana. È chiaro che a questa stessa scrittura posso pervenire anche considerando i flussi di massa in corrispondenza delle sei facce dell'elementino fluido. Quindi, andate a considerare i flussi di massa alle sei facce e scrivendo un bilancio, quindi di massa, il quale può essere scritto come m punto in ingresso uguale m punto in uscita più la variazione della massa, la derivata della massa rispetto al tempo, ovviamente nel volume di controllo. Ecco, riscrivendo questo bilancio si perviene a questa scrittura che abbiamo già ottenuto direttamente con il trasporto di m. Vediamo com'è possibile farlo. Iniziamo a considerare il piano xy. quindi guardiamo questo elementino sul piano xy e in questo modo siamo in grado di considerare i flussi, per esempio, in direzione x e in direzione y. Qui avremo che i flussi di massa ovviamente sono legati al campo di velocità. Giusto? Quindi, sostanzialmente, il flusso qui sulla sinistra sarà pari a rho per u meno del rho u su dx. Ho scritto un po' troppo a sinistra e non ho più spazio. Allora, qui ho rho u meno del rho u su dx delta x mezzi, moltiplicato quindi sto utilizzando. Quindi sto utilizzando un'espansione di velocità che è stata al primo ordine a partire, evidentemente, dal centro dell'elemente del senso fluido, quindi l'intervallo di espansione è delta x mezzi, come abbiamo detto prima, per la superficie delta y delta z. di qua avrò rho v meno del rho v su dx per delta y mezzi moltiplica delta x delta z e qui rho v più del rho v su dx delta y mezzi delta x delta z ovviamente abbiamo considerato quindi questi flussi quindi questo, questo, questo e questo mancano i flussi in direzione z ora io li riporto qui sulla destra dopo vi do un po' di tempo per scrivere con cam quindi per il flusso in direzione z consideriamo per esempio il piano z y quindi avremo ancora una volta il nostro elementino fluido z y in dimensione delta z delta y e il flussi in questione sono questi quindi rho w meno d rho w su dx delta z mezzi delta x delta y e qui avrò rho w v più d rho w su dx delta z mezzi delta x delta y silon allora faccio così perché altrimenti non si capisce niente quindi va delta x delta x scusatevi ma lo spazio purtroppo è terminato e quindi questi sono i flussi di massa in questione m prendetevi qualche minuto per scrivere con calma allora prima di proseguire qui ho scritto delta y mezzi chiaramente delta x delta y quindi cos'è gente allora a questo punto abbiamo tutti i flussi di massa alle sei facce del nostro elementino fluido quindi la portata massica all'ingresso sarà pari a rho u meno d rho u su dx delta x delta x delta y delta x più rho proprio rho v meno d rho v su dx delta x delta x delta x delta z più rho più v meno del rho più v su dz delta z mezzi delta x delta y quindi questa è la portata massica in ingresso la portata massica uscita la scriviamo qua è praticamente la stessa espressione invece dove invece di avere i segni meno abbiamo i segni più perché sono tutte le frecce che si trovano sul lato destro sostanzialmente quindi avremo rho 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 più rho delta x max delta y delta z più rho b più d rho b su dx delta x max delta x delta z più rho più d rho più v più z delta z mezzi delta x delta y mentre la derivata della massa rispetto al tempo sarà pari alla derivata di rho e di rispetto al tempo ora il nostro volume è delta y delta y delta z e quindi il volume ovviamente è fisso e costante ora a questo punto se andiamo a sostituire questo m punto in m punto out della derivata nella espressione che esprime il bilancio di massa sui elementi maturito noterete che avendo a primo membro questo termine e a secondo membro questo termine rho u delta y delta z si semplifica con questo rho u delta y delta z come pure rho b e rho w quindi ciò che rimane è meno del rho u delta x mezzi delta y delta z e tutti gli altri termini al primo membro uguale gli stessi termini al secondo membro più il termine di variazione cioè la derivata ora portando tutto al secondo membro questi segni meno evidentemente diventano più e si vanno a sommare tutti questi termini dove quindi delta x mezzi più delta x mezzi diventa delta x e ciò che alla fine otteniamo è questa relazione d d rho su d x più d rho v più d rho più v su d z e tutto tutto che moltiplica delta x delta y delta z più delta x delta y delta z del rho su d d è uguale a z ed evidentemente questo delta x delta y delta z che altro non è che il volume delta d può essere semplificato ok ora questo termine qui tra parentesi non è altro che la divergenza del vettore rho u cioè questo è la divergenza di rho u vettore e di conseguenza come potete osservare abbiamo riscritto esattamente la stessa relazione che abbiamo qui va bene? ora qualche osservazione su ciò che abbiamo scritto questa legge di conservazione della massa è scritta per un elementino fluido che ha una densità che può variare nello spazio e nel tempo oltre ovviamente a un campo di velocità pure di funzione dello spazio e del tempo questo perché abbiamo detto che gli elementini fluidi non solo si muovono nello spazio ma si deformano si comprimono eccetera quindi chiaramente è il caso di un fluido che può essere descritto come comprimibile sulla base della classificazione che abbiamo utilizzato nella scorsa lezione di conseguenza questo significa che l'operatore derivata rispetto a x rispetto a y rispetto a z ovviamente si applica sia alla velocità sia alla densità però la volta scorsa abbiamo anche detto che in molte applicazioni pratiche di interesse ingegneristico si può ritenere che il fluido sia in realtà a comportamento incomprimibile questo perché se si tratta di un liquido in effetti un liquido ha una bassissima comprimibilità di conseguenza lo possiamo di fatto trattare come comprimibile ma anche quando si dovesse trattare di un gas abbiamo detto che nel caso di basse velocità in particolare nel caso del numero di Mach minore di 0,3 circa si può ritenere che la variazione di densità sia tutto sommato trascurabile già che la variazione di densità è inferiore di fatto al 5% va bene quindi poiché flussi diciamo per esempio di aria a Mach 0,3 corrispondono a flussi di aria sostanzialmente a 100 metri al secondo che ritorniamo a questo Mach 1 è circa 300 metri al secondo no? ricordate quindi stiamo parlando di qualcosa che va circa 100 metri al secondo che sono circa parliamo sempre più o meno in ordine di grandezza 350 km di orario cioè non stiamo parlando di flussi proprio lenti va bene quindi questo per farvi capire che in effetti in molte applicazioni pratiche questa ipotesi di incomprimibilità è applicabile ok e che cosa succede a questa equazione quando parliamo di flussi incomprimibili allora lo vediamo subito e lo scriviamo qui in alto allora si può osservare che se il flusso è incompimibile chiaramente rho è costante quindi la derivata di rho rispetto al tempo è pari a zero e la divergenza di rho può essere riscritto ovviamente come d rho su dx d rho v su dx uguale a rho d u su dx e d su dy d w su dz più u più u del rho su dx più v del rho su dy e il frutto deve essere pari a zero perché ovviamente del rho su dt è pari a zero questi termini sono anche loro pari a zero chiaramente quindi alla fine per un fluido incomprimibile deve valere la relazione divergenza di u e pari a zero che è la legge di conservazione della massa per un fluido ripeto a comportamento incomprimibile di fatto la divergenza di u esprime la deformazione volumetrica di un elemento fluido cioè compressione e espansione va bene quindi in effetti un fluido incomprimibile ha deformazione volumetrica pari a zero ok divergenza di u pari a zero siete? tutto chiaro? allora il modo di un fluido è descritto da un set di equazioni differenziali la prima è questa che esprime abbiamo detto la conservazione della massa la seconda equazione è un'equazione vettoriale ed esprime la conservazione della quantità di moto è un'equazione vettoriale nel senso che ovviamente può essere scomposta nelle tre componenti scalare lungo x lungo y lungo z quindi l'equazione vettoriale in uno spazio tridimensionale è in realtà composta da tre equazioni scalare e in più abbiamo un'equazione di conservazione dell'energia oltre a queste equazioni che sono generali abbiamo detto avremo delle leggi particolari che servono per ottenere un'opportuna chiusura del nostro obiettivo abbiamo visto adesso la prima di queste equazioni andiamo a vedere la seconda cioè l'equazione di conservazione della quantità di moto questa equazione per un elemento fluido deriva dalla scrittura della legge generale che è la seconda legge di Newton secondo principio della dinamica cioè forza uguale massa per accelerazione ovviamente questa legge esprime l'accelerazione che ci permette di esprimere l'accelerazione che subisce un corpo se è sottoposto a una certa forza F e quello che dice che l'accelerazione di questo corpo è proporzionale alla forza applicata è inversamente proporzionale alla massa del corpo ovviamente è una relazione che scriviamo per corpi rigidi e ci permette di descrivere poi la traiettoria che questi corpi seguono in seguito a un urto come abbiamo detto la volta scorsa abbiamo parlato dell'esempio delle palle di apigliato sul tavolo di apigliato e osservando che l'accelerazione è la derivata della velocità rispetto al tempo questa legge può anche essere scritta in questo modo dove il prodotto della massa per la velocità è appunto la quantità di moto scritta in questo modo questa legge esprime appunto il concetto di conservazione della quantità di moto infatti in un sistema isolato quindi non soggetto all'azione di forze esterne la quantità di moto si conserva e questo è il principio secondo il quale come abbiamo detto la volta scorsa quando si spara con un'arma si arriculano perché la quantità di moto complessiva del sistema arma più proiettile si conserva va bene? quando però c'è una variazione di quantità di moto la velocità di variazione o il ratio di variazione rispetto al tempo è pari alla risultante delle forze esterne ok? ora questa espressione della seconda legge di Newton è particolarmente utile per i fluidi già che i vari elementi fluidi che si muovono nel modo complessivo del fluido sono continuamente sottoposti all'azione di forze esterne quindi sulle superfici dell'elemento a causa dell'interazione tra un elemento fluido e l'elemento fluido adiacente o a causa per esempio del campo gravitazionale delle accelerazioni eccetera eccetera quindi quello che andremo a formulare per ricavare l'equazione di conservazione della quantità di moto per un fluido è questa legge per un elementino fluido va bene? chiaramente questa derivata che vedete qui è una derivata sostanziale già che la legge forza quale massa per l'accelerazione è formulata con un approccio lagrangiano giusto? l'abbiamo detto la volta scorsa di conseguenza quello che noi andremo a scrivere è che la derivata della massa della componente U della velocità rispetto al tempo sarà pari alla risultante delle forze esterne a lungo x per elementi non fluido la derivata analogamente di mv su di t è pari alla risultante delle forze lungo y e la derivata di mv su di t è pari alla risultante delle forze lungo z chiaramente stiamo sempre parlando del nostro elementino fluido come abbiamo già descritto in precedenza e stiamo riferendo a un sistema di riferimento cartesiano tridimensionale quindi siamo nello spazio tridimensionale le dimensioni di questo elemento tra delta z delta y e delta x esattamente come abbiamo visto prima e allora a questo punto iniziamo a guardare nel dettaglio tutti i termini che compaiono in queste equazioni iniziamo iniziamo ad osservare che dmu su dp può essere scritto come db dove db lo scriviamo qua sotto è pari a delta x delta y delta z quindi delta p uguale a delta x delta y per la derivata sostanziale di rho u su dp ok e questa derivata sostanziale può essere scritta come d rho su dp più la divergenza d rho per u in questo modo dove con questo trattino indico il vettore velocità quindi non vi confondete qui ci sono due u spero la cosa non vi crei confusione ovviamente la u senza trattino è la componente x del campo di velocità mentre la u con il trattino è il vettore velocità se la cosa vi crea confusione possiamo utilizzare una terminologia differente ditemi voi se utilizziamo la v potrebbe confondersi la v grande con il volume ditemi voi se non vi crea confusione possiamo procedere in questo modo quindi occhio al trattino quindi qui abbiamo la u velocità ora questo significa scrivere delta v che moltiplica d rho su dp più questo operatore è d rho u quadro dx più d rho u d più d più d rho u w su d z giusto? bene adesso se andiamo a sviluppare il tutto tutto può essere scritto come delta d per rho di moltiplica d u su d t più d quadro su d x più d u qui su d y più d u più v su d z e questa è la divergenza di u vettore giusto? più ovviamente sto dando per scontato per scontato un'operazione semplice cioè ho la derivata di a per b e a derivata di a più b derivata a derivata di b più b derivata di a no? sto dando per scontato questa operazione credo sia evidente no? ok quindi qui abbiamo derivata di rho u quindi è rho derivata di u più u derivata di rho va bene? quindi più e quindi qui abbiamo del rho su di d più ciò che rimane che di fatto è la divergenza di rho u vettore volendo essere un pochino più sintetica ma allora questo che cosa ci fa osservare? ci fa osservare che già che questa è la legge di conservazione della massa che quindi deve essere pari a zero chiaramente se vogliamo essere sicuri di rispettare la legge di conservazione della massa quella scrittura è pari a delta b rho d u su d va bene? quindi quando andiamo a scrivere il primo membro di queste espressioni qui d m u su d t ovviamente posso riscriverla come delta b d rho u in realtà è delta b rho d u su d t va bene? e questo d u su d t è in particolare da questa espressione qui che ovviamente è stata ottenuta dall'applicazione del teorema del trasporto di Reynolds ora questa cosa qui ovviamente può essere scritta anche per le altre tre componenti dell'equazione vettoriale di conservazione della quantità di moto cioè scrivo velocemente scopro la componente lungo y quindi d m v su d t alla fine la possiamo scrivere l'abbiamo detto con delta b rho d b su d t e utilizzando il teorema del trasporto di Reynolds è delta b rho d b su d t più la divergenza di b componente y della velocità per d di velocità e questa è la d mv su d va bene in questo modo noi abbiamo il primo membro di quelle tre equazioni scalari ok avete capito chiaramente ognuno di questi termini dm u su d t dm d su d t e chiaramente dm w su d t che non ho scritto ma semplice a questo punto ricaparlo dovrà essere pari alla risultante delle forze esterne nella direzione x y e z rispettivamente ok quindi a questo punto ci dobbiamo porre il problema di riuscire a scrivere questa risultante delle forze esterne una volta che avremmo fatto questo potremmo dire di aver scritto il principio di conservazione della quantità di moto per l'elemento fluido allora prima di procedere sistemiamo qui che questo è il nostro punto di partenza e possiamo riscrivere tutto come delta b rho e u sul g è uguale alla risultante delle forze esterne lungo x delta b rho del v sul g uguale alla risultante delle forze esterne lungo y delta b rho vedo che u sul g uguale alla risultante delle forze esterne lungo 0 e ora ci concentriamo su questi tre termini allora le forze che agiscono su un elementino fluido vengono abitualmente suddivise in due categorie questo è un approccio che trovate su quasi tutti i libri quindi anche noi seguiremo questo approccio in modo che se volete andare ad approfondire l'argomento su un libro sostanzialmente troverete al 99% dei casi lo stesso medesimo approccio va bene? allora queste forze si dividono in forze di superficie e forze di volume ok? le forze di superficie sono costituite dalle forze di pressione e dalle forze viscose allora le forze di pressione già che sia la pressione che gli sforzi viscosi sono dimensionalmente una forza per unità di superficie ovviamente le forze di cui stiamo parlando saranno ottenute moltiplicando questi sforzi e la pressione per la superficie sulla quale insiste le forze di volume invece sono dovute per esempio all'accelerazione di gravità accelerazione centrifuga accelerazione di orioli a forze elettromagnetiche e così via noi però nella nostra trattazione considereremo soltanto le forze di galleggiamento cioè quelle legate al fatto che questo elemento fluido si trova in un campo gravitazionale e quindi subisce un'accelerazione gravitazionale riteniamo altresì che l'accelerazione di gravità come consuetudine sulla maggior parte dei libri di testo agisca nella direzione verticale y converso diretto verso il basso quindi il vettore accelerazione di gravità per intenderci che chiamiamo g è controverso a basse y va bene? e questa forza è pari ad n per g quindi meno la scrivo qua mg che voglio dire è pari a meno delta b rho per g quindi diciamo che questa forza di volume che è l'unica che consideriamo non richiede particolari approfondimenti già che è data semplicemente da questa regione va bene? le forze di superficie invece richiedono un approfondimento direi molto più significativo rispetto a questa forza di volume e per poter determinare l'azione di queste forze di superficie andiamo a considerare innanzitutto la forza dovuta alla pressione allora nel caso della pressione e sarà sempre un verso che è a comprimere l'elementino fluido ok? di conseguenza avremo queste sei forze sulle sei facce che vanno tutte a comprimere come vedete e che sono P meno del P su di X delta X mezzi e questa è la pressione che agisce sulla faccia di sinistra ottenuta a partire dal valore di pressione associato al centro dell'elemento fluido utilizzando un'espansione in serie di Taylor restata a primo ordine come abbiamo detto poco fa è una forza per unità di superficie quindi per ottenere la forza devo moltificare per la superficie che è delta Y delta Z analogamente sulla destra avrò P più D P su di X delta X mezzi delta Y delta Z in direzione verticale invece avrò P meno D P su di Y delta Y mezzi delta X delta Z e P più D P su di X di Y delta Y mezzi delta X delta Z mezzi gli ultimi due sono P meno D P su di Z delta Z mezzi delta X delta Y e infine questo termine qua che scrivo qua sotto è P più D P su di Z delta Z mezzi delta X delta Y c'è l'occhio qui sulla sinistra allora queste forze che ovviamente questa risultante delle forze che ovviamente è data dalla derivata allora delta B per rho della derivata sostanziale del vettore velocità rispetto al tempo queste forze ovviamente sono una forza e una grandezza vettoriale che abbiamo detto e quindi anche i componenti Fx Fx Fz e qui avremo Fx di superficie più Fx di volume per quello che abbiamo detto in direzione x non ci sono forze di volume Fx non di superficie più Fx non di volume e questa invece c'è Fz di superficie più Fz di volume questa qui non c'è le forze di superficie si dividono in forze di superficie dovute a effetti viscosi facciamo Sb più forze di superficie dovute alla pressione questa cosa qui qui abbiamo meno delta P rho di senza vettore perché l'abbiamo messo già in direzione inizio quindi Fz superficie forze viscose più Fz superficie pressione allora a questo punto avremo che le forze di superficie dovute alla pressione che agiscono in direzione x sono pari andiamo a vedere a P meno del P su Dx delta x mezzi delta x delta z meno P più del P su Dx delta x mezzi delta y delta z chiaramente chiaramente P si semplifica questi due termini si sommano c'è un segno meno per cui alla fine viene meno Dp su dx delta p allo stesso ora non fatevi confondere dal fatto che qui compare un volume delta P perché dimensionalmente stiamo parlando di forze infatti questa P è una forza per unità di superficie quindi sono newton sul metro quadro la derivata della pressione rispetto a x, y, z ha le dimensioni di una pressione diviso una lunghezza ovviamente un volume diviso una lunghezza è una superficie quindi alla fine abbiamo una forza per unità di superficie moltiplicata da una superficie ovviamente ci aspettiamo non fatevi confondere dal fatto che qui è comparso delta P invece tenete presente che qui non abbiamo la pressione ma la derivata della pressione quindi è una forza per unità di volume dimensionalmente questi sono i termini di pressione a questo punto siamo un po' in là per la pausa se volete facciamo la pausa però deve essere veloce proprio 5 minuti e poi riprendiamo oppure proseguiamo come volete voi se ve la sentite proseguiamo non è menti di di migli in quella l'intesta che volete fare? non è bene pausa Grazie.